Oh yeah! Iscrivetevi al canale Usiamo la divisa del Milan Questo è logico E ragazzi si passa Eccolo il nostro avversario Sterling SBC Hazard Remi E Bella squadretta Musa CC Oddio santo Vabbè proviamoci Suso 1-0 per noi E andiamo così Grande Milan Grande Su Ai 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 raga Siamo messi male 2-1 Remi E Ma raga Quando ha 3-1 È difficilissimo marcare quei difensori che abbiamo 2-1 purtroppo Dai Già è difficile marcare ragazzi Poi arrivano pure questi gol Vabbè E finisce ragazzi 3-1 la partita Purtroppo l'abbiamo persa Ma è difficile marcare questi giocatori così veloci E io direi di andarcene subito a cercare un altro Ecco qui il nostro prossimo avversario Madonna Anche qui Martial Sanchez Eh Canteif Tanta roba ragazzi Anzi mi sa che Sif Tra l'altro Anche questa bella tosta Proviamoci Ma raga Eh Quelle 4 vittorie iniziali Ci hanno illuso Agia Subito 1-0 Ragazzi Subito 1-0 Maledizione Suso 1-1 Andiamo così ragazzi Mamma mia Che sì Sempre lui il leone La mette dentro Ma che azione ragazzi Già essere 2-1 al 45esimo Contro questi squadroni Già è positivo ragazzi Ora possiamo pure perdere No vabbè Vorrei vincere Però bel gol Bella azione Questa è veramente una bellissima azione Eh vabbè Eh Mi ero salvato col palo Però poi è arrivato il gol Eh vabbè Pazio Eh Goal 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 Che ci fai ragazzi Vanno a 3.000 Eh pazienza Che dobbiamo fare Musa 2-2 No 3-3 E andiamo così Mamma mia Non si molla niente ragazzi Noi ci proviamo fino alla fine Poi come va va Si sa Usiamo una squadra abbastanza debole Ma non importa Musa No E vai Suso 4-3 Qui un po' di fortuna ragazzi Ma Va bene così Dai così Dai così Non molliamo ragazzi Musa Dopo una giocata fantastica di Niang ragazzi Spero che vi siate divertiti in questa partita come mi sono divertito io Cioè queste sono le vittorie più belle in assoluto E andiamo così E si va a vincere ragazzi Una delle vittorie più belle che abbia mai fatto Andiamo subito con la prossima partita Ma che vittoria E andiamo subito con la prossima partita 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 E andiamo subito con la prossima E andiamo subito con la prossima partita 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 Ultimo avversario ragazzi Del mio episodio logicamente Affrontiamo Dembélé, Werner se non sbaglio Coman Eh bella squadretta con Vidal, Runei Eh bella tostina Vediamo subito con la prossima partita E andiamo subito con la prossima partita E andiamo subito con la prossima partita Finisce 2 a 0 questa partita E andiamo subito con la prossima partita E andiamo subito con la prossima partita Di questa serie perché se raggiungiamo un buon numero di mi piace E vediamo un buon intrattenimento da parte nostra per voi Possiamo con le visual ovviamente con le view Eh possiamo fare magari la prossima weekend league Con le versioni un po' più uppate Tipo qualche versione tots, if dei giocatori Quindi fateci sapere un po' cosa ne pensate Mi raccomando ragazzi Seguite poi l'ultimo video di Leo Per vedere come andate a finire questa weekend league Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi